Ambiente, innovazione e territorio. Tre parole che inquadrano l'operato passato, presente e futuro di Marche Multiservizi. Futuro nel quale viene focalizzato ancora di più il tema della sostenibilità, chiave fondamentale per progettare la ripartenza del post-Covid. Diversi gli obiettivi in programma e quelli già raggiunti dall'azienda, come spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tibiroli. Per noi il nostro lavoro è ottimizzare l'uso dell'energia, ridurlo ovviamente e quindi ottimizzarlo. In questo per esempio abbiamo rinnovato tutto il parco illuminante di Pesaro, ovviamente riducendo moltissimo quelli che sono i consumi energetici, quindi contribuendo anche qua alla decarbonizzazione e quindi abbiamo ovviamente la necessità di usare al meglio anche tutte le risorse. vogliamo essere, abbiamo l'ambizione ma credo anche il dovere di essere un supporto fondamentale alle amministrazioni comunali, alla provincia, alla regione, quindi agli enti locali, tutti nell'andare a ridisegnare e quindi rigenerare anche un nuovo modello di società. Abbiamo approvato recentemente un piano industriale che ci vede impegnati ultimamente nei prossimi 4 anni con altri 130 milioni di euro di investimenti sul territorio e quindi sono tutte infrastrutture che vanno a beneficio della collettività e del territorio stesso. Sono importanti anche i numeri, le percentuali per quanto riguarda la depurazione nel Comune di Pesaro e anche i numeri relativi agli obiettivi già raggiunti da Marche Multiservizi quando si parla di Europa? Sì, direi che oltre alla depurazione abbiamo fatto dei passi in avanti dal punto di vista anche della raccolta differenziata e dal punto di vista dei rifiuti. Diciamo che l'Europa fissava al 55% il tasso di riciclo nel 2025, noi abbiamo già superato questo obiettivo nel 2020, quindi siamo molto avanti, così come il tasso di riciclo degli imballaggi fissava il 70% nel 2030, anche questo noi l'abbiamo già superato nel 2020, quindi stiamo lavorando bene in questa direzione. Io vorrei ricordare che quando sono arrivato qua qualcuno mi ha attacciato come un antiambientalista, sono arrivato che la raccolta differenziata all'epoca era il 23%, oggi siamo abbondantemente sopra il 70% non solo nella città di Pesaro ma in tutto il territorio gestito, quindi come bacino e credo che anche sulla depurazione e i contributi ambientali siano notevoli. Presente alla conferenza stampa, alla sua prima uscita ufficiale da presidente di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini. Sta andando bene, è un ruolo importante che tratta tematiche ambientali e tratta di territorio, quindi sono tematiche a cui ho sempre dato grande importanza nelle mie passate esperienze amministrative, in questo nuovo ruolo penso di poter portare, diciamo così, le tematiche ambientali e soprattutto il rapporto con il territorio al centro del mio percorso. Penso che le tematiche ambientali, così come abbiamo visto anche nella pianificazione europea inserite insieme alle next generation EU, possono rappresentare da un punto di vista sia ambientale che per le nuove generazioni un punto cardine, un punto di riferimento per le strategie future. In questo territorio vogliamo essere autosufficienti, anche autonomi, interpretare questi nuovi modelli con l'orgoglio di dare risposte concrete alla cittadinanza e alle amministrazioni locali.